Taranto, città delle buche. L'ex amministrazione Melucci ha seminato non la rinascita ma le buche, qualcosa di incredibile. Le buche si creano perché le strade non vengono rifatte, non vengono riasfaltate e chiaramente la situazione si deteriora sempre più di tal che quelle buche che sono piccole diventano sempre più grandi fino ad arrivare alla dimensione di crateri. Ci troviamo in via Lago di Garda, qui alcune buche sono state così rappezzate alla Bellemeglio con un po' di asfalto, ma vedete le immagini parlano da sole, sembra un vero campo di golf nel senso che le varie rappezzature vi mostrano lo stato della strada. Una strada che è un vero percorso di guerra, chiaramente questa strada avrebbe dovuto avere e dovrebbe avere l'assoluta priorità nel rifacimento ma nulla di questo è mai avvenuto in quattro anni e mezzo di amministrazione Melucci. Mentre stiamo parlando un signore ci mostra, ci fa segno che anche dal lato opposto basta fare dieci metri e troviamo l'inferno. Giustamente guardate qui cosa c'è, un altro scempio, da un lato sono state rappezzate, dice il cittadino giustamente Qua ho una vergogna propria, sono anni che paghiamo le tasse, ma stiamo scherzando. Però poi si ricordano di chiedere il voto, questa è la cosa che fa rabbia, le stesse persone. Qua è noto che la facciamo a cotta, la facciamo a crudo, ma sempre qui di, perciò è noto parlare, paghiamo sempre le tasse, le tasse si pagano sempre le tasse e si pagano e soddisfazione della città non c'è mai niente, tutto qua, la ringrazio di cuore. Vedete la viva voce del cittadino, qui davvero un percorso incredibile, sembra che siano caduti asteroidi in serie, guardate qui proprio il manto stradale, l'asfalto è completamente scomparso, se lì c'è stato un po' di asfalto giusto per tappezzare alla meno peggio, qui davvero è uno scempio, guardate qui non c'è più traccia di asfalto, non c'è più traccia. Sembra di stare in aperta campagna eppure stiamo in aperta città, basta camminare, la gente persino dalle finestre urla la propria rabbia, la propria disperazione e come non dare ragione alle persone, come non dare ragione. Guardate, pietre, manto stradale, già è troppo chiamarlo manto stradale, un percorso completamente sconnesso. Da una parte dicevo un percorso che è un campo di golf con le buche appunto così, belle e meglio rappezzate, poi chiaramente con un po' di acqua si riaprono, ma già l'immagine, basta dare così un'occhiata anche in lungo, in fondo, in profondità e si vede in che condizione è il manto stradale, perché toppe, toppe, e poi il clou lo avete visto a pochi metri di distanza. Penso che ogni mio commento sia superfluo, lo hanno già evidenziato i cittadini e questa è la rinascita che l'ex sindaco Melucci dice di aver seminato. Non sono chiacchiere, penso che i cittadini camminino, penso che i cittadini del rione Salinella vanno a fare la spesa, c'è il mercato e vedono loro stessi l'abbandono, il degrado, il menefreghismo assoluto che c'è stato nei loro confronti. È ovvio che per amor proprio in cabina elettorale faranno un'altra scelta. Sono convinto che queste denunce che faccio da 20 anni sull'ambiente, in questo caso sulla vivibilità urbana, verranno premiate, perché credetemi, da giornalista mi sono stancato di ripetere sempre le stesse cose, ora è arrivato il momento di incidere, incidere attivamente e in prima persona. Grazie a tutti.